E adesso 5, 4, 3, 2, 1 Ma se poi stanno aspettando che si spoglia? Riprendiamole, riprendiamole, scusa eh! Vuoi fare un'intervista? Stavo riprendendo... Vuoi sapere se... sono curioso se si spoglia? Eh, mi sa di sì eh! Adesso lui si spoglia! Ti vogliamo a Nudo! Tranquillo che qua non si riprende niente! Mettere il discorso non l'ho ripreso, non l'ho schiacciato! Pensavo che stava andando, cazzo! Ci rifai il discorso? Sì, ma quando non li faccio? Lascia i ghiili e riempiamo a qualsiasi ghioli! Oh, preparati che mi scusca! Mancano due, eh! Due minuti! Ce la metti tu? Quali due minuti? Distribuiamo i bicchieri e i bicchieri! Sì, ma cazzo! Tu manca pane, manca uno! Cebola, un saluto! Manca uno! Manca uno! Manca uno qua, guarda! Ma che cosa fa con lui di giudicare si era col segno? Mi raccomandò! Che cosa è importante? L'onizzo non ripide! L'onizzo non ripide! eh la parte finale oh mi fa male il pollice adesso il feto del rovescio si può fare meno 60 meno un minuto comincia a caricare un po' anche il secondo me cercare di schizzare schizza destra aspetta 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 no no qua se lo fai al signore ne favo la scena aspetta oh passami la giacca la giacca passami la giacca io mi tolgo la maglia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 14 15